Travolta da un'automobile a pochi metri da casa e morta sul colpo. La tragedia lungo la strada alle 16 è a Pisana di Solesino. La vittima è una donna di 78 anni. Stava attraversando la strada all'incrocio tra via nazionale e via Broglio. La dinamica dell'incidente in via di ricostruzione, l'impatto con una Smart che viaggiava in direzione Monsedice è stato particolarmente violento. Il corpo è stato scaraventato a qualche decina di metri dall'impatto. All'arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri. La rovigana è rimasta interdetta al traffico per un paio d'ore.